Basta chi esca, perché... Parti! Parti! Supernuti e Soparerosa in avanti nella prima fase su Black Imaging che rimane terzo in corda, Largo Morcote e poi ancora Anna Aurora che precede Germi Pola per le corsie larghe, Ariane Breeze e Orpennatiche che chiudono gruppetto. Dall'esterno Soparerosa in leggero vantaggio con la giubba fucsia Black Imaging che prende posto in corda, Morcote in giubba grigia per le corsie larghe, al quarto Supernuti con il cap giallo rispetto alla giubba gialla nera di Anna Aurora che segue in quinta posizione all'esterno, poi la coppia che vede a largo Orpennatiche che risale le posizioni e a chiudere il gruppo c'è sempre Germi Pola. Soparerosa in vantaggio quando ormai siamo sulla piegata, al secondo posto Morcote all'interno Black Imaging e poi Anna Aurora, a largo c'è sempre Orpennatiche e poi Supernuti a chiudere Ariane Breeze con davanti a sé Germi Pola. In quest'ordine ha l'ingresso di retta d'arrivo con Soparerosa che ha rubato qualche metro ai suoi avversari, Black Imaging in seconda, poi Morcote che è ancora in terza su Supernuti, Anna Aurora e Orpennatiche che viaggiano a largo, a largo di tutti invece prova il recuperone Ariane Breeze e poi Germi Pola. E ancora davanti Soparerosa sotto la minaccia di Black Imaging, all'estero di tutti c'è Orpennatiche e poi anche Supernuti che prova a intervenire, Soparerosa che è ancora in vantaggio sullo stesso Black Imaging, su Orpennatiche e su Supernuti e altri più arretrati, Soparerosa che è ancora in vantaggio, provano ancora il recupero, quelli dietro ma Soparerosa non frette nell'ultimo tratto, Soparerosa da solo a comando, su Orpennatiche all'argo Germi Pola, Soparerosa che arriva a fine in fondo, su Orpennatiche e Germi Pola nell'ordine per il secondo e il terzo. Soparerosa a quota quasi sciocca, ma sicuramente bella faccia rotta al costo costa di Ivan Rossi per il signor Goldin ai colori e al training.